Uno per volta, cominciamo da sinistra a destra, vai, facciamo una spazzolata, abbiamo fatto più di 300 esperimenti in questi sei mesi, inclusi 12 dell'Agenzia Spaziale Italiana e abbiamo riportato conoscenza che serve a noi qui sulla Terra per continuare l'esplorazione dell'universo. Questa è una domanda complessa, non so se sono tagliato per la politica, non lo so, mi piacerebbe sicuramente trovare il modo di contribuire a continuare questo lavoro che hanno fatto i nostri astronauti, ma insomma portare e riportare nel nostro paese, in Europa, in Italia, le conoscenze, le esperienze, metterle al servizio di tutti, non so questo cosa vuol dire politica, educazione, scienza, lavoro, tecnologia, sto cercando di capire cosa fare da grande e vedremo. Ci sono tantissimi esperimenti che io non capisco come ingegnere, so che però per la genetica, per la fisica, per l'astrofisica sono tutte cose importantissime e secondo me sono tutte cose che ci portano avanti, non sono state selezionate da me, non è l'astronata che seleziona gli esperimenti, sono le agenzie spaziali, le agenzie spaziale italiane, le istituzioni spaziali europee, ci sono team di persone esperte che lavorano a queste cose e che selezionano come utilizzare questo tempo importantissimo che l'astronata ha a bordo e noi siamo la mano d'opera, aspetta gli altri definirci. Quello che succede in orbita anzi è interessante perché uno arriva su sulla situazione che può essere il genio più genio, ma si trova in questa situazione di microgravità dove deve rimparare, sei sostanzialmente diversamente abito, il tuo cervello è completamente bloccato nel capire come muoversi, come bevi un pochettino, se si strozza il liquido di gola, devi ricapire queste cose e sei più imbranato ancora di Rathman devo dire. Quegli esperimenti che ho fatto io c'erano degli esperimenti veramente interessanti come al solito sulle ossa, la ferita di calcio delle ossa, la massa muscolare. Abbiamo concluso un esperimento dell'agenzia spaziale europea, si chiama Sarco Lab, per vedere la funzionalità dei muscoli in orbita, addirittura mi sono state fatte delle biopsie, mi sono stati estratti dei campioni di muscolo prima della missione, li hanno coltivati in laboratorio, li hanno mandati alcuni in orbita con me, altri li hanno tenuti a terra e hanno controllato come questi campioni di muscolo si sono sviluppati rispetto al mio muscolo vero che è noto, insomma delle cose complesse che a malapena capisco, ma capisco che sono importanti per farci progredire nella nostra conoscenza. Abbiamo fatto delle cose di metallurgia, un'altra cosa interessante erano la questione delle fiamme, è stato portato in orbita ormai da due o tre anni un macchinario speciale che permette di fare del fuoco in orbita ed hanno scoperto, questo un anno fa, che c'è una classe nuova di fiamme, o meglio, non è una classe nuova perché c'è sempre stata e che non l'abbiamo mai vista, c'è una classe di fiamme che brucia a temperatura più bassa e che persiste una volta che il fuoco finisce, per vederla deve avere degli strumenti speciali che abbiamo in orbita, insomma questa è una cosa veramente interessante, come ingegnere mi ha lasciato di stucco e guardando queste fiamme che si sviluppano nello spazio è veramente una cosa incredibile. Space race privata? Beh diciamo che il fatto che si trasformi da un'attività pubblica, fatta da quei soldi pubblici, a un'attività privata è una cosa buona, è quello che deve essere, le cose che non possono essere fatte da privati vengono fatte strategicamente dai governi coi soldi del contribuente, ma poi una volta che queste diventano sostenibili dal punto di vista finanziario è bene che vengano trasferite ai privati, ed è quello che sta succedendo adesso, con l'idea di sviluppare il turismo spaziale, addirittura di andare su Marte e portare gente su Marte, si stanno sviluppando questi nuovi veicoli, meno male perché altrimenti si continuava ad andare avanti con dei veicoli vecchi, questi nuovi veicoli arriveranno, immagino cominceranno a volare già dall'anno prossimo, mi aspetto che si comincerà a volare con i turisti, i primi, quelli che hanno i soldi, e poi piano piano i costi si abbasseranno, chissamai che tra una quindicina d'anni ci andremo anche noi senza nessun problema, come oggi compriamo l'aereo per andare a New York, domani compriamo l'aereo per andare in orbita bassa terrestre e finalmente spero di riuscire ad andare alla finestra e guardarmi, godermi il mondo senza Houston dietro, Nespoli torna a lavorare, queste cose così. Battaglia reale praticamente, chi vince, ma secondo me vincono un po' tutti, nel senso che non è che sia di scludermi, ci sono elementi di questi che hai citato che sono interessantissimi, come vedi anche Nespoli torna ce li hai messi un po' tutti, non ne ho una in particolare, se dovessi dire, se fai le grandi domande, tipo, vuoi più bene al papà o alla mamma, vuoi più bene al Star Wars o Star Trek? Potrei dire Star Trek ma perché comunque ha sviluppato diciamo così una metodologia molto più approfondita rispetto a quelle stellari, cioè in stanza sono comunque dei film, qualche telefilm, Star Trek sono un sacco di serie, degli alieni secondo me si fanno i fatti loro e sperano che gli terrestri non vadano mai sul loro pianeta, ma io direi che c'è spazio per tutti, c'è più le meraviglie della tecnica perché Raffan è lì soltanto come ospiti, come se fosse un visitatore della stazione spaziale.